Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Nelle ultime ore una serie di rumor vedrebbero la storia d'amore nata a uomini e donne tra Asma e Cristiano già al capolinea. Ecco cosa emerge dalle segnalazioni. Alimentate dal silenzio social della coppia, secondo queste voci di corridoio, Asma e Cristiano starebbero attraversando una crisi che potrebbe segnare la fine della loro relazione. In vacanza ci sono stati dei giorni in cui stavano bene e altri in cui non si parlavano molto? Ci sono stati degli screzi più che altro caratteriali. Sicuramente si vedranno per chiarirsi ma per ora stanno ognuno per conto suo ha rivelato un'esperta di gossip, un'altra segnalazione confermerebbe quella precedente. Se proprio lo volete sapere l'ultimo giorno sulla spiaggia non si sono proprio parlati. Detto ciò spero che si chiariscano, non sono persone che lavorano sui social e hanno la necessità di inventare queste le parole riguardo alla coppia. Già nei mesi scorsi una lite tra Asma e Cristiano immortalata in un bar aveva fatto pensare il peggio. Ma l'ex cavaliere di uomini e donne si era lasciato andare a una toccante dedica che aveva spazzato via le voci di crisi. Rivedremo i due volti del Dating Show nella nuova edizione di settembre? Non ci resta che attendere la risposta di Asma e Cristiano. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.